Questa era una maga che noi guardavamo in televisione, perché io le risate che mi potevo fare a guardare Lady Barbara, anche detta Lady Mara, perché non si capiva niente di quello diceva, faceva la poetessa, lei diceva le poesie, un agelo, un giorno di terra. E io a scuola facevo l'imitazione di Lady Barbara, intanto Lady Barbara andava in giro per Palermo con la Ferrari, perché la gente la chiamava per farsi maltrattare come lei, sentite come lì maltrattava? Allora, cosa ti ho detto? Dove ti resta? Tu dove? Sì, fidanzapetto? No, non c'è fidanzapetto. Era sempre così. Ma ce n'era un altro che era peggio, che era il mago Atanus. Atanus, pia quello più spedizzato qua, cioè quello più, proprio con la magliettina beciolina, non c'è qua, perché a Milano non ci sono. Comunque. Sai quelle magliettine di cotone, beciolina brutte, proprio con la canottiera, no, una magliettina, però brutta, proprio di quei verdi marci, con la faccia nera, un tavolino messo così a Atanus. Tu lo chiamavi? E noi, con mia sorella è rizzata, chiamavi, 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 chiamavi. Vuoi sapere qualcosa sull'amore? Sì. Ma tu esci? Treccato. Ma tu esci? No, non esco. E se non esce l'amore, come arriva? Come arriva? Come arriva? Molto.